Diciamo un buon risultato soprattutto per la prestazione della squadra. Sapevo che magari sul piano del gioco ancora non siamo pronti per come dovremmo fare, però sotto il piano dell'applicazione la squadra ci ha messo tutto in campo, ha dato tutto. Anche come carta d'identità oggi avevamo tanti giovani, la difesa era una difesa di 3,95-94, quindi alle prime anche esperienze in questa categoria. E quindi questo mi rende ancora più soddisfatto. La squadra ha dato tutto, questa era la cosa più importante. Personalmente in poco tempo non posso dare un'identità ben precisa alla squadra, ma sotto il piano della mentalità penso che i ragazzi abbiano recepito quello che gli avevo chiesto. Abbiamo fatto abbastanza bene, soprattutto i primi 20-25 minuti, dove abbiamo avuto due occasioni anche importanti per sbalcare il risultato. Poi siamo un po' calati perché comunque eravamo tesi, avevamo tante situazioni, la testa non libera, quindi diventava difficile. Mi è piaciuta anche la fase difensiva di tutta la squadra, dei quattro difensori hanno concesso penso poco e niente alla Maceratese, che è una squadra che ha sempre fatto gol nelle partite che ha disputato, quindi qualcosina che ho tentato di dare l'ho vista fare dai ragazzi e questo mi riempie d'orgoglio. Sarà la società se ci sarà voglia di continuare, per me è già importante e sono soddisfatto di allenare una piazza così prestigiosa, anche per solo tre partite. Grazie.